Stefano, è sempre brutto venire a Napoli a un grande stadio e incassare cinque gol, però purtroppo è stata una prestazione anche con tanti errori che hanno portato a questo. Sì, è sempre brutto prendere cinque gol, soprattutto perché siamo dei professionisti a alto livello e quindi cerchiamo sempre di vincere le partite o di fare comunque la prestazione, però oggi loro avevano qualcosa di importante da giocarsi e noi siamo venuti qua con la massima intenzione di fare bene, però non è andata come volevamo, ma non c'è tempo per pensare adesso perché veramente siamo a racionale e ancora possiamo raggiungere la parte sinistra della classifica e domenica c'è un'altra partita importante per noi. L'obiettivo resta quello, tu hai detto parole ancora una volta come sempre a leader, può esserci sentita una difficoltà anche per i più giovani a rialzare la testa, perché magari può essere una conflitta pesante più che per la classifica, ma proprio per la parte mentale. No, ai giovani ci pensiamo noi, non nessuno deve abbassare la testa, soprattutto in questo momento, finché c'è speranza dobbiamo continuare a spingere, se qualcuno poi si tira indietro vuol dire che non può fare questo mestiere. Io vado sempre avanti a testa alta e pensando alla prossima questa è già finita e domenica abbiamo una partita in casa per finire bene in casa e daremo tutto come abbiamo sempre fatto per farlo. È una serata amara per il risultato, però per te hai trovato un gol bellissimo, sei tornato alla rete, quanto è importante anche per te farlo così bello in uno stadio dove hai fatto anche il primo tuo gol in carriera? Sì, tutto comincia da qua per me, 16 anni fa con la Roma ho fatto il mio primo gol da professionista a 16 anni e sono tornato qua nello stesso stadio con un nome fantastico, sono riuscito a fare un gran gol ma volevo dedicarlo a questa mia mamma che mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto finché c'è speranza continua a crederci che sei un grande professionista e io ci ho sempre creduto e ho avuto tanti problemi ma non ho mai mollato, sempre in campo a testa alta e oggi sono contento di aver fatto questo gol.